Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Dragon Rex e siamo qui con il terzo episodio che inizieremo a breve di Resident Evil, l'HDR Mastered, in compagnia anche ovviamente per tutta la saga del mio cavo amico Deus Panzer 3TV. Ciao Panzer, bentornato sul mio canale. Grazie a te Dragon Rex per aver rinnovato questo invito, sperando di andare avanti, portare questa saga fino a dove è arrivato, sarà una lunga passeggiata, una lunga corsa, vediamo dove andremo a finire e cosa faremo quest'oggi. Lascio la parola a Dragon Rex per il resto, grazie ancora. Grazie a te Panzer per essere qui con me perché come sapete, come vi ho detto, Panzer 3TV, troverete tra l'altro i link in descrizione del suo canale YouTube e del suo canale Twitch, mi aiuterà durante questa lunga saga dei Resident Evil. C'è da dire un'altra cosa che non ho detto nei precedenti episodi e cioè che troverete anche sul suo canale gli stessi video, quindi andate anche sul suo canale e iscrivetevi. Siamo pronti, partiamo con un nuovo episodio e quindi facciamo subito il carica e avviamoci per continuare questo gioco che mi sta piacendo, mi sta piacendo già da subito. Sono contento. Mi ha preso davvero tanto, quindi vediamo un po'. Partiamo con il nostro Chris. Eccoci qua. Allora, innanzitutto con il nostro inventario possiamo posare il nastro inchiostratore e poi... Cos'altro lasciamo? Possiamo lasciare qualcos'altro? La chischetta e prendere la vecchia chiave. E quindi possiamo prendere la vecchia chiave. Perché dobbiamo andare a prendere un oggetto importante. Sì, tu mi dicevi anche di prendere il fischietto, giusto? Sì, il fischietto sta nel piano di sopra. Sì, io devi andare a prendere il fischietto così ce lo portiamo e ce lo mettiamo nel baule, giusto? E non lo andiamo a fare subito e andiamo anche a aprire le ultime porte che abbiamo disponibili con questa chiave. Quindi devi salire su... Vieni verso di noi... No, verso... Ok, sì. Bravissimo, bravissimo, vedi? Ti stai imparando la villa. Eh, vai. Stai facendo progressi. Ah, la ringrazio. Prego. Questa è la zona che mi ricordo abbiamo ucciso un paio di zombie. Cioè, non abbiamo neanche iniziato e già mi sta stupendo. Bene, bene. Mi fa piacere, mi fa piacere. Allora, se non sbaglio, è qui il fischietto. Bravo. Ok, quindi ce lo mettiamo qui. Promemonio strappicciato. Allora, qui è dove sta la chiave. Legga, legga. Ok. Oggi Sir Spencer mi ha chiesto di nascondere qualcosa in un luogo sicuro. E io ho avuto questa idea. Ho pensato che se a proteggerlo fosse un animale pericoloso, come il perfido cane che vive qui, nessuno sarebbe in grado di avvicinarsi. Il vandaggio si agiva sempre nei pressi del balcone, sul lato occidentale del secondo piano e di certo correva al vichiamo di un fischietto per cani. Ed è a questo punto che entri in gioco tu. Credo che tu sia l'unica persona in grado di avvicinare quel dannato cane senza rischiare grave immobiliazioni. Il che significa che solo tu puoi mettergli questo collare. L'oggetto che Sir Spencer vuole nascondere si trova dentro il collare. Sei l'unica persona di cui posso fidarmi. Naturalmente verrai ricompensato per il tuo aiuto. Ricordi quel certo oggetto che hai sempre desiderato? In cambio della tua collaborazione potrei essere in grado di fartelo avere. mi sembra un affare vantaggioso per entrambi. John o Jon Toleman. Ok. Ok. Bene. Allora. Come ti ho detto l'altra volta, ricordati questa stanza perché ti sarà molto utile più avanti. ok. Ma certo. Allora. Quindi immagino che dobbiamo andare giù. Sì. Prendiamo questa strada giusto? Sì. Sì. E dobbiamo aprire. Qui sembra che la maniglia stia per cadere a pezzi. Può cedere comunque. Allora. Sì. Allora. Prima di andare a prendere. Sì sì sì. Premetti sì. Allora. Prima di andare a usare il fischietto. ti consiglio, volendo, di andare a aprire, va in questa doppia porta, di andare ad aprire le porte che rimangono con la chiave che abbiamo in possesso. Così almeno ci liberiamo di uno slot. Ok. Questa? Dopo. Questa dopo. Ok. Quindi immagino che dobbiamo andare da questa parte. Questa dopo? Questa dopo. Questa dopo? Tutto dopo. No. Dopo. Ok. Quindi qua. Sì. Ok. Vieni qua. Andiamo. Oddio. Devi spararlo. Sì. Un attimo aspetta perché mi ha accolto leggermente in sorpresa. Quindi aspetta un attimo. Ok. Siamo pronti? Vai. Io sono pronto. A non morire però. Eh speriamo. Vai che cavolo. E attaccati. E staccati. Mi ha ucciso. Mi ha ucciso. No vabbè. L'ho ucciso? E' morto? Ucciso ucciso. Ok. E' morto è morto. Ok. Allora sposta questo. Spostiamo questo? Sì. Perché se non ricordo ti dà un caricatore. Sì. Caricatore. Eccolo qua. Vedi? Giocandolo anche per fatti miei. Bravo. Bravo. Ok. Adesso. Vai avanti. Oddio. Eccolo. Spara. Bravo. Vai. Aspetta. Vai. 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 Eh che cavolo. Premi tutti i tasti. Premi tutti i tasti. Premi tutti i tasti. Eh stai. 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 Maledizione. No. Esso due. Esso due. Ok. Dai. Vediamo. Spara a tutto andare. Non fermarti a sto punto eh. Aspetta. Pare che sia morto. Control. Sì. Ok. Bene. L'abbiamo uscito un'altra volta. Quindi spostiamo questo. Eh ricarica anche l'arma. Sì. Allora per caricare Eva. L1 più cerchio. O L. Ok. Ok. Vieni verso di noi. Vai. No. Do vai. No. Vaffan. No. Vaffan cuffia. Togli ti. Toi ti. Vaffanculo. Bastardo. Mi ha sparato. Mi ha sparato al muro. Mi ha sparato al muro. vedo che hai un amore incondizionato con i casi io odio i cani sempre a questo giro mi ha fregato che prendiamo il fischietto ma se vuole possiamo andare a prendere prima stiamo andando a fare aprire le chiavi e poi dopo andiamo là stiamo facendo questo facciamo questo già lo facciamo non ti preoccupare facciamo tutto però facciamo così peccato che non riesco a liberarmi dal cane facciamo così dopo che hai preso ucciso il cane vai a salvare te lo dico no no voglio uccidere l'altro è dico quando è uccisi di due cani vai a salvare ok vediamo un po se riusciamo a sconfiggerli questi cani è uno ok uno l'abbiamo fatto fuori qua mi prendo i fogliettili ok via 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 lasciami no porto giuda maledetto ok uh ce l'abbiamo fatta mamma mia vaffan cuffia sono riuscito a liberarmi vabbè stiamo sull'attenzione dici che mi conviene curarmi o va bene così allora fa una cosa apri vedi che c'è nella venendo verso di noi c'è un'altra cosa da apri da prendere che non mi ricordo cosa c'è questo da spostare che cosa vedi un po apri no allora allora dall'altra parte dall'altra parte no 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 vedi verso no vai verso è che bravo ah il pugnale il pugnale ah ecco il pugnale è utile anche contro il canino non mi ricordo sinceramente perché io uccido chi mi capita a tiro ok adesso dove andiamo vado su questa stanza aspetta allora fai una cosa fai una cosa salviamo salviamo quindi torniamo indietro tanto questi sono morti giusto non è che tornano più sì 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 no 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 ok andiamo a salvare perché ce l'abbiamo fatta in qualche modo siamo riusciti speriamo di non incontrare nessuno tornando indietro ok siamo riusciti ragazzi a superare questi cani maledetti che mi hanno ucciso un paio di volte un paio solo beh un paio di volte più o meno ma io direi di più no dai io sono cattivo cattivo che non è altro ok quindi io direi che possiamo salvare quindi appoggiamo appoggio il fischietto vabbè che tanto poi lo riprendiamo quindi si prendi prendi un'erba verde prendi un'erba verde per curarmi dici si ok usalo ok ok siamo curati così siamo a posto salviamo che dici ebbene siamo venuti a forza per forza salviamo visto che abbiamo fatto questa parte si usiamo il nastro inchiostratore così siamo a posto ma adesso non morire perché non ne abbiamo più ecco speriamo di trovarne altri si 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 ne trovi allora facciamo una cosa possiamo fare una cosa allora adesso io riprendo nel frattempo la chiave la vecchia chiave ok e possiamo proseguire nella nostra avventura con il nostro caro Chris allora immagino che dobbiamo tornare da questa parte sì almeno i cani li abbiamo uccisi due cani in meno dove vai? ah ok ok sto andando giusto sì 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 ok ritorno qua immagino sì ok speriamo che non ci siano ok vai avanti che non ci siano altri cani no no non passano più tranquilli posso aprire qua? sì hai usato allora la chiave della vella è una ok vai adesso rientri nella nella diciamo nella hall dove sta la statua dove c'è la mappa ah ok è uno ok quindi questa questa l'abbiamo aperta sì allora adesso adesso torno torno la hall torno sì torno nella hall allora adesso prendi un attimo la mappa eccomi qua allora vai nel secondo piano no la mappa è il secondo piano ok allora sì allora vai su vai verso destra apriamo qualche altra porta questa porta qui questa porta qui sì ok no sbaglio quella è la sinistra sbagliato torno indietro torno indietro sì ok allora vai vai vado a questa parte? vai 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 sì quella quella sulle scale bravo perfetto sì è chiusa a chiave dall'altro lato allora prendi questa cosa doppia anta doppia porta qua siamo già andati siamo fa vedere? sì qua ci va il zombie che girava intorno se non sbaglio no dall'altra parte giusto? c'è ragione eh sì hai visto? quindi è da quindi è quindi noi siamo sulla sinistra noi dobbiamo andare alla destra ok quindi è da questa parte aspetta vai verso verso destra sì è l'altra parte sì è l'altra parte no 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 torno indietro bravo no torno indietro destra da qua? devo scendere? no 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 dritto destra dretto alle spalle ok perfetto questa porta ah ok è chiusa l'emblema di un'armatura questa è con l'armatura allora dobbiamo prendere dopo ci sono altre porte qua questa qui questa è quella di prima quindi no dobbiamo scendere allora allora si scendi scendi vai sulla porta parallela a questa no si si bravo bravo no 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 perfetto si no 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 questa porta qua questa porta qua questa qui? si anche qua ci eravamo stati si ma c'è un'altra porta che tu devi allora immagino che devo andare di qua si qua c'è lo zombie oh dio mi ricordo se riesci cerca di evitarlo perché non hai la feschetta con te dove vado di qua? vai su questa porta a sinistra mi sento la fa aprire questa qua? no questa qua sul lato è chiusa dall'altro lato ok perfetto quindi abbiamo una acquinsol come farti andare eh fallo venire verso di te vado di qua no no torna indietro attento aspetta 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 devo evitarlo cerca di evitarlo si no come l'ho detto eh lo so ok vai scappa 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 ok vai nella porta quella a fianco sulla sinistra appena passi bravo è chiusa l'emba da matura ok vai avanti vai avanti vai 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 ok andiamo abbiamo sprecato quel coltello vabbè hai usato la chiave della vella ok ok ci siamo oh vedo allora sulla vedi sulla ci sta il caricatore il caricatore l'ho visto l'ho visto immagino che questo sia vivo no spero di no è vivo è vivo è vivo quindi mi attaccherà perché poco prima poco prima che iniziassimo si ho fatto questa parte si oh qua c'è una chiave questa è un'altra si prendila ok no no vabbè poi puoi visionare possiamo no si oh il generatore non sembra funzionare ok quindi non c'è nient'altro immagino qua no possiamo anche tornare indietro te oh oddio no e vaffan cuffia eh ok scappa 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 no 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 scappa eh vabbè come non non è tanto fa il giro tondo è quello che sto provando a fare ok apposta tanto perché poi più tardi poi più avanti ci dobbiamo tornare ma quello era quello che stava in questo corridoio o è un altro sì è un altro ok quindi immagino che adesso dobbiamo evitare anche l'altro oh sta proprio davanti a me sorpresa evitalo visto? ok torna bravo ok mamma mia che brutto che era com'è che fanno oh e qua dove stanno? allora è l'inizio ah già è la stanza di prima no ho visto il cammino acceso ok allora torna torna indietro sì bravo perfetto ok quindi abbiamo aperto abbiamo trovato un'altra di quelle chiavi sì quindi dove ci conviene andare secondo piano terzo piano allora aspetta un attimo fammi vedere la mappa eccola qua allora non lancio l'onelmo non va bene la no metti secondo piano eccolo qua allora dobbiamo salire su e vedere la la seconda porta questa qua la seconda porta vabbè sì saliamo perché ci dobbiamo levare la chiave torna indietro vieni verso di noi ok vai nella seconda la seconda questo è racchiuso dall'altro lato però è quella doppia però qua c'è sempre lo zombie devo andare sulla porta che sto sulla destra allora sulla sinistra la 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 prima non la seconda da qua giusto sì no la prima è questa non è la prima no è la seconda torna indietro va bene vabbè la prima entrando era andiamo di qua allora hai usato la chiave della vella ok vai questa chiave non serve più abbandonarla sì vai questa è fatta mamma segna oh sento strani rumori infatti sta proprio là sotto tendolo tendolo zombie allora salute che bello allora praticamente il fischietto per cani sta nella porta qui a fianco dove sta l'altro zombie no da dove sei venuto sì da dove sei venuto questa porta sì ah ok potresti aprirla usando una vecchia chiave quindi la possiamo aprire aspetta eh ok è giusto vai sì ok armati di tanta pazienza aspetta aspetta qua c'è dell'erba sì usa la prima sì hai curato le tuffe vita ok allora usa usa il fischietto questa si può usare più di una volta sì usiamo eh per forza carica l'arma carica l'arma veloce veloce aspetta eh vabbè eh che cavolo ah due sono pure dai 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 via bastardi curati 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 eh se mi da il tempo no no eh vabbè perché è utilizzabile per dell'arma hai ragione cavolo vabbè eh che cavolo dai 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 no eh ok apriamo questa chiave pronti ad affrontare i cani però prima andiamo ad esplorare un po' di là per sbloccare vediamo un po' da questa parte così sblocchiamo anche questa di porta e qua usciamo ok da questa parte perfetto dai ok prepariamoci ad affrontare nuovamente questi cani vediamo un po' se ci riusciamo io qua non ti aiuto visto che sei morto per causa mia te la vedi tu no 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 tranquillo allora possiamo il fischetto usa il cartello curati ok curiamoci eh che cavolo curiamoci di nuovo non mi usa il coltello però questa volta ok fatto abbiamo fatti fuori e ci curiamo pure ah vabbè collare si lo prendiamo mi fai curare anche ok così allora ferma prendi l'inventario prendi l'inventario ok adesso dobbiamo esaminare collare immagino giusto si si eccolo qua no va nella punta si premi no premix premix c'è un intervento premiamo ok cosa ci ha dato il colore ha nascosto un piccolo emblema si ok premix non c'è niente di solito capovol rotolo si bravo no così no no di 180 gradi dottor dottor lo so che 180 gradi cos'è a posto si ho assunto la forma di una chiave bello mi piace questa cosa non è una chiave vera e propria la dobbiamo farla dobbiamo andare a sostituire quindi adesso ok quindi dobbiamo andare a fare una chiave esatto si adesso bene si ok siamo riusciti a uccidere io direi che possiamo anche andarcene di qua tanto giusto possiamo andare di qua in quella porta visto che ci troviamo così fermiamo questa prima questo episodio alleluia ok allora a sto punto a prima di andare a salvare andiamo a prenderci non ci abbiamo da salvare no torna torna indietro torniamo indietro da qua no si torna indietro da dove sei venuto ok ci servono i nastri per salvare eventualmente è per forza ok usciamo di qua ok siamo riusciti a sconfiggere ok vai siamo riusciti a sconfiggere questi cani che sono molto fastidiosi devo dire sono quanto fastidiose ok no vai 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 dritto vai dritto no no vai dritto stavo controllando doveva lo zombie lasci fare lasci fare se vede l'ombra sta dall'altra parte ok immagino immagino che possiamo tornare indietro di qua no si no aspetta aspetta ripidiamo la mappa eccola qua la mappa allora scendi giù no scendi giù con la mappa ah scusami ecco dimmi tutto così tra poco finiamo anche allora devi scendere giù al primo piano e fare tutta la passeggiata cioè da dove abbiamo iniziato a fare questa puntata scendi giù vai verso sui destra la porta doppianta bravo cerchetti di andare a far raccattare i ok vai nella porta a destra bravo ok qua dovremmo tornare dopo vai avanti questi cani ci hanno fatto un po' sudare a me non mi hanno fatto sudare a me si abbastanza sono abbastanza insidiosi novellino lo so sono un ovellino però allora dai qua no era l'altra la si va in bagno si ok ok vai questa giusto si se ci fa entrare ok sperando che non ci sia nessuno ok vai la prendi questa porta bella questa raffigurazione ok se ci fa entrare ok io direi che c'è nessuno qua no ok un coltello che non me l'ha fatto usare precedentemente non so perché vabbè ce l'abbiamo inchiostro prendi si ottimo tre inchiostri che fanno sempre utile vediamo se c'è qualcos'altro cavalletti è stato no dopo dobbiamo andare a prendere il fucile oh c'è il fucile eh ma dopo dobbiamo andare a prendere ah ok ok lo prendiamo dopo quindi io stavo controllando il quadro non avevo visto che c'era il fucile ok non c'è nient'altro qua giusto? si allora vai avanti andiamo a salvare andiamo a salvare si così chiudiamo l'episodio ovviamente ho fatto un po' di morti con i cani però ci può stare i cani sono davvero un rompimento ok immagino che si vada di qua no dai qua sto tornando indietro ok torniamo andiamo a salvare ragazzi così chiudiamo questo episodio abbastanza come si dice big boss faticoso per via dei cani perché onestamente i cani erano davvero fastidiosi al massimo però l'abbiamo fatto dai alla fine l'abbiamo fatto quindi salviamo anzi prima di salvare aspetta un attimo vediamo un po' cosa ci abbiamo qua non c'è bisogno di portarci niente giusto? cioè di lasciare niente ok perfetto quindi salviamo salviamo anche qua ottimo allora caro panzer lo so è stato un episodio abbastanza a meno per me abbastanza tosto perché i cani non sembrano ma sono davvero pericolosi sì abbastanza allora ragazzi noi ci fermiamo qui per questo episodio spero che vi sia piaciuto se è così lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per supportare questa serie ringrazio Deuschpanzer3tv per avermi aiutato durante ovviamente quest'altro episodio e quindi noi ci vediamo al prossimo grazie panzer grazie a te e ci vediamo al prossimo episodio di Vestident Evil ragazzi ciao a tutti